Ragazzi, io ho un'idea. Com'è se adesso prendiamo il carro armato e andiamo in giro buttando fuori questi turchi di merda dal deserto? Vai. E se siamo noi turchi? No, siamo noi turchi. Io nello schieramento degli inglesi non ci sto. No more! Please, take your own machine. Brexit per me. Brexit. Il maestro l'ha studiato in tutto questo tempo. L'ultima volta ero un po' carente sul Brexit, adesso lo sa che cos'è. Sali, sali, Marza, sali. Perché mi stai accettando? Muoviti! Cazzo, ma c'è una partenza? Che minchia è il Ferrari che stai guidando? Hai visto? Ponte Cavalli! Possiamo utilizzare il nostro potere mediatico per andare a mandare i nostri iscritti a votare per scegliere il nuovo nome del ponte che stanno costruendo a Bari. Io lo volevo chiamare Ponte Marzano, ma la gente è ignorante. No, no, lo chiamiamo, lo chiamiamo Le Campagne, scusa. No, no, Le Campagne ci starebbe, però tra le opzioni c'è Ponte Arambe e di conseguenza... Più che altro, allora, non che Arambe sia meglio di noi, cioè Arambe era più importante di noi, questo va detto. Sì. Però il punto è, giustamente, con Arambe abbracci una parte più grande dello internet, quindi ci sta. Dello internet. Sì, è più facile. Dello internet. Comunque nel frattempo Mollu, nella guida, non vorrei dirti, ma hai buttato giù un traliccio della fast web. Non lo so, mi spiace per quelli che rimarranno senza connessione, ma che ci devo fare? Ah, io ci tengo di dire una cosa, però ragazzi, una cosa di cui vado molto fiero. Ma non ha fatto la terza guerra mondiale? Che mio trisnonno è medaglia al valore nella prima guerra mondiale, quindi io dovrei... Boia! Il mio trisnonno invece era medaglia d'oro, quindi... Nel lancio della granata. Io la sto scherzando, eh. L'hanno squalificato. No, perché? Ah, veramente medaglia al valore. Eh, ma che cazzo ha fatto? Cioè, medaglia al valore! Eh, ha salvato... ha salvato tipo il caporale della trincea, ha salvato Arambe. Ma che? Sì, ti giuro. E non poteva salvare anche Arambe. Eh, non era ancora nato Arambe al tempo. Minchia male, era comunque una trincea. Cioè, era l'habitat di tuo nonno. Non l'ho capito, ragazzi. Anch'io. Che ci fai con una medaglia al valore? Te ridi, 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 che il suo English Humor è sempre uguale. Vai, vai, vai. Non mi lascia mai, non mi lascia più. Non ti lascia mai. È una maledizione, anzi. English Humor non so perché mi ricorda The Lady. Sono... GRANDEE! E' un applauso a Marzano che è entrato nel video! Benvenuto, Marzia! No, no, i puru friend up show! Come? E vi saluto così. Si. Hai imparato la lingua ottomana in fretta, comunque. Come su piacere. Raga, io direi di andare su B. Sinceramente. Io ho lanciato una molotovia. Come ha consigliato il consigliere Razz fino ad ora. La ringrazio. No, c'è un cecchino, raga. C'è un cecchino... Oh, sulla... Sulla... Sulla affare dell'acqua. Bravo. Bravo, che giottore. Ok. Che cazzo è questo ragazzi? Un carro allegorico. Qua... Categoria... Carri grandi per Viareggio. Io ma metto il segnalino su D. Puntalo sulla mappa. Tipo col pallino che c'hai. E tieni premuto R1. Non è vero. Ma lei non è un capitano valido. Cosa ci fa? Suo nonno non è fiero di lei. Se ne vada. Tris nonno. Tris nonno non è fiero di lei. Se ne vada. Ce n'è uno dalla duna. Guarda, lo vedi dalla duna. L'ho visto. C'è uno. Morto quello sul treno. Bravo. Uccidete quello sulla jeep? Oh, raga, quello che sta cadendo. C'è uno che si sta paracaduttando, ragazzi. Che cazzo è? Ma dallo buono. Oh, c'è un cecchino dalla duna. C'è un cecchino dalla duna. Eh, lo sto sparando. Io non moro. Dietro al treno. L'hai visto, Marzia? C'è un cecchino sulla fiat duna, hai detto? Fantastica. Anche la duna con il codice sconto. Le canvine potete acquistare da qualsiasi concessionario aderente. Sobbiamo comunque. Ai miei tempi la guerra era mia così. Oddio. Come? Se non era così la guerra ai tuoi tempi, com'era? Ah. Ai miei tempi. Si leggeva il giornale. Mentre si sparava in trincea. Signore, ma qua stiamo facendo un video. Ma perché è entrato questo tipo? Signore, lei com'è entrato in TS? Scusi. Ma che TS? Siamo qua al... Al cellulare del mio nipote. Quel testa da caso. Ma le mie presenti. Raga, ma chi avete dato? Chi avete dato i dati del TS? Oh no, no! Oh! E vai via! Che cazzo! Me ne vado via! Ma che cazzo! Sfigati i babboini! Buon hobby! Eccomi, eccomi, scusatemi! Oh, mollo, però! Saluto al nonno! Eh, uè! Ha sentito un po' di rumori di bombe così e... Sì! Li richiama! Gli è partito il porco guerra mondiale! Oh, regà! Il primo a quickscopare su sto gioco di merda! Mamma mia! Andiamo su G? Andiamo su G? Sul punto G? Andiamo, esatto! Bravo! C'è G innanzitutto, in sta mappa! Vabbè, eh... Yomalelux! Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, delle campagne! Oggi siamo qui, siamo io, e... Yomal... Ah, è giallo lintro, giallo lintro! Ah, no, ascoltate! Mi non ricordi lontani! Purtroppo è morto, quindi... No, scusatemi, ma che vuol dire che una ringhiera ha parato uno stronzo dal mio colpo? Mi dissi scusi Marchese? Ma cos'è sta tempesta? Ma mai che giocare, vabbè, a giocare con gli amici ci fa bel tempo! Io che ragazzi sto facendo un gameplay massacrevole! Grande! Gli inferi di Ron, davvero! Ma merda! Era puntato con Marzo, dai Marzo! Ma anche a Ron in generale! Sì, sì, vabbè! Un bellissimo! Sono morto contro un albero! L'ho fatto per arande, però! Per quanto state facendo? Io sto per morire! Io ho 7-10! E io ho un solido 18-7! Io sto 6-2! 7-2! 7-3! Perché Dio è morto! Se fosse fotto aggiungere un'opinione personale! Prego, prego, prego! Youtube è libero! A me mi ha ucciso uno da dentro la caverna! Spero che ci fossero già i Flintstone! Non spero che i Flintstone avessero combattuto la prima guerra! La caverna Marzo brutto! La caverna Marzo brutto! Cos'è? Eh, lo possiamo capire solo io, Marta e Yoman questo purtroppo! Ah, ok! Hai presente quando c'erano le stelline? Ma basta dire che ho il cancro! La prossima volta pensa bene a che video fa! Mi alteri! Ragazzi, vedo due spiaggiati sulla duna! Manca solamente un telo da mare e stanno a posto! Vorrei capire perché! Per quest'anno! Non cambiare! Stessa guerra! Il budello di tu madre! Beh, ragazzi, io ho tolto 95! A sto stronzo non è morto! Dovevi togliere 100! Eh, ho capito! Però, cioè... Ai miei tempi si shottava! Nonno, via e basta! Si shottava! Se continuiamo così, ragazzi, la perdiamo! La perdiamo! Uccidiamo questi cazzo di inglesi! Spawno morto! Spawno! Oh, sta tempesta si deve muovere! O arriva o va via! Un po' rimane a metà! E che cazzo! Eeeeee! Bella! First pack of the day! Victory Tots!